ciao a tutti oggi prepareremo i maffini con patate zucchine pancetta il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e 30 minuti circa gli ingredienti sono patate lessate e fredde scamorza parmigiano grattugiato farina di tipo zero pancetta zucchine tagliata dadini uova sale pepe noce moscata aglio olio evo e lievito istantaneo per torte salate andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio e l'aglio e azionare il bimbi per quattro minuti 120 gradi velocità 1 togliere l'aglio dal boccale aggiungere le zucchine il sale il pepe e cuocere per 10 minuti 100 gradi anti orario velocità 1 mettere da parte lasciare raffreddare mettere nel boccale le patate ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 4 aggiungere le uova le zucchine il parmigiano la scamorza la pancetta e la noce moscata ed azionare il bimbi per un minuto anti orario velocità 3 anti orario trasferire il composto in pirottini per muffin cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20 30 minuti i muffin sono cotti lasciare intiepidire prima di servire muffin con patate zucchine pancetta grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti